Thomas Stracoscia 5,5 il tiro di Zemaili è sì potente ma centrale lui interviene in maniera non precisa, da rivedere. Ramos Marchi 6 continua il processo di maturazione del giovane spagnolo che anche oggi gioca con personalità sbagliando davvero poco. Stefan De Frey 6 gli attaccanti del Bologna non gli danno punti di riferimento e lui sembra meno sicuro del solito ma porta a casa la pagnotta. Uo la sfortuna Dos Santos 6 il pubblico di fede bianco celeste non si fida molto di lui ma compie una grande chiusura intercettando un pallone di Dosa che avrebbe mandato in porta verdi. Ammonito e diffidato salterà il benevento, dal 46esimo minuto Bartolomeu Iacchinto Quissanga 6 entra Farlegna e si comporta degnamente. Adam Arusit 5,5 non spinge come al solito e sembra un po' a corto d'ossigeno. Lucas Leiva 7 il brasiliano è l'anima e il cuore del centro campo della Lazio. Segna il suo secondo gol in tre giorni, il primo in Serie A e gioca una partita a tutto campo. Marco Parolo 6 martella, in posta e si inserisce sempre in maniera perfetta. Indispensabile. Lui Salberto 6,5 arretra e gioca in una posizione a lui poco consuona ma nessuno se ne rende conto. Manda in porta Lucas Leiva e si rende sempre pericoloso tra le linee. Felipe Anderson 6 gioca a largo a sinistra e di fronte a un avversario esperto e scomodo come Torosidis che gli ringhia sulle caviglie. Apprezzabile più in fase di ripiegamento, dall'83 minuti Felipe Caicedo SV, Luis Carlos Almeida da Cugnanani 5 nel primo tempo non si fa mai vedere e non dà nulla alla manovra. Corpo estraneo, dal 46esimo minuto Jordan Lukaku 5,5 timido, spinge poco e male, Ciro Immobile 5,5 si muove tanto ma la vede poco contro i giganti del Bologna. A secco. Simone Inzaghi 5,5 sbaglia la formazione iniziale ma poi si corregge. La sua Lazio però non è riuscita a sfondare contro un Bologna ben schierato. I suoi ma anche lui, forse, hanno bisogno di ricaricare le pile. Uguale 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 le pagelle del Bologna uguale 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 Antonio Mirante 6,5 nulla può sul tiro di Lucas Leiva ma si dimostra attento per tutta la partita, sicurezza. Giancarlo Gonzales 6 immobile non è un cliente facile ma lui se la cava con mestiere. Filipe Lander 5,5 e Lucas Leiva lo scherza sul gol del pareggio della Lazio ma lui nonostante l'errore si riprende e chiude increscendo. Sebastian De Maio 6, usa tanto il fisico e si affida al suo buon senso della posizione. Prestazione sufficiente, esce perché ammonito, dal cinquantottesimo minuto Ibrahima MBA 6 dinamico e voglioso di mettersi in mostra, ci riesce. Vasilis Torosidis 6,5 Felipe Anderson ha un'altra età e un altro passo ma lui usa tutta la sua esperienza per arginarlo. Missione compiuta, dal settantasettesimo minuto Simone Romagnoli 6 entra e alza il muro, Eric Pulgar 5,5 sempre attivo e in moto ma meno preciso del solito. Godfred Donsa 6 gara ordinata e senza particolari errori. Buona prestazione del giovane eganese. Blerim Zemaili 6,5 più di mezzo gol di Verdi è suo. Acquisto prezioso del mercato di gennaio. Dà qualità e puntità al centrocampo. Adam Masina 6 il gigante di Donadoni non concede un centimetro a Marusi Cenani. Promosso, dall'85 minuti Ladislav Krejci SV Simone Verdi 6,5 l'ex canterano del Milan è il più lesto sul tapping che porta in vantaggio il Bologna. Gioca per la squadra e va vicino altre due volte al gol. Rodrigo Palazio 6 si incarta un paio di volte e non è da lui ma gioca una gara tutto cuore e di qualità nonostante 36 primavere. All, Roberto Donadoni 6 il suo Bologna non gioca benissimo ma è ordinatissimo e i ragazzi lo seguono a mena di. Grazie a tutti.